tortini fantasiosi quiche cremose e biscotti al cioccolato li trovi tutti in forno e fantasia la nuova collezione con deliziose ricette al forno e istruzioni passo a passo con ogni fascicolo versati di stampi in silicone da collezionare e tutti gli strumenti per decorare i tuoi dolci forno e fantasia il primo numero in edicola a soli un euro e 99 grazie